Dopo dieci anni lunedì mattina Franazzario Vasciarelli uscirà da quella porta, ci troviamo nella parrocchia Sacro Cuore di Sernia, qui c'è il convento dei Francescani. Franazzario è stato qui per dieci anni, ha seminato del bene, tante le iniziative a livello sia religioso ma anche sociale. Un uomo che ha fatto tanto bene alla comunità di Sernia, noi siamo andati ad intervistarlo per vedere quali sono le sue sensazioni in questo momento. Le mie sensazioni sono innanzitutto di grande lode a Dio perché ho vissuto questi dieci anni proprio nel mio servizio di pastore, facendo il parroco, il superiore dei frati, l'economo della casa, l'insegnante alla scuola di teologia, tanti compiti, il costruttore, abbiamo fatto tante cose, piccole cose importanti e quindi anche allora dico innanzitutto ringraziamento a Dio, ringraziamento a questa comunità, la comunità del Sacro Cuore. Poi allargo un po' i confini, ringraziamento alla città di Sernia che mi ha accolto molto bene, mi ha sostenuto in questo percorso, dalle persone più semplici a quelle più altolocate, il mondo della politica, il governo della città. C'è un momento, un'occasione, un qualcosa che si porterà dietro? Io mi porto tanti momenti, non posso dire quel momento, però se c'è un momento tu mi fai ricordare la missione popolare parrocchiale che non veniva fatta, credo a livello cittadino, dal 2000, l'anno giubilare e io nel 2016-2017 ho voluto per il settantesimo di fondazione della parrocchia dare un'esperienza di spiritualità nuova e ci ha accompagnato e di questo ringrazio il mio provinciale dell'epoca, ho voluto qui il cuore di Padre Pio. Lunedì mattina uscirà dalla porta che è alle nostre spalle e Franazzario che cosa farà? Franazzario farà un'esperienza missionaria, sostenuto dal benvolere dei miei superiori, ho chiesto di poter fare un'esperienza missionaria in Africa. Da questi microfoni vuole lanciare un saluto alla cittadinanza di Serna, ai fedeli che in questi dieci anni hanno accompagnato il suo percorso? È un messaggio di speranza, io lascio una comunità bella, accogliente, che ha tanta voglia di far bene, soprattutto di crescere nella conoscenza, è una realtà bella Isernia, io sono stato bene, credo che la gente sia stata bene con me, voglio ringraziare per tutti gli attestati di stima, però la vita continua e i rapporti di amicizia, di affetto rimangono sempre. Io parto con questa ricchezza nel cuore sapendomi amato, ma nello stesso tempo amando la gente di Serna. Grazie.